Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e BVA1 variante in direzione di Bologna. Sulla Firenze e Mare restano 3 km di coda per un incidente tra Montecatini Terme e Prato Ovest e coda a tratti tra Pistoia e BVA11A1 per traffico intenso, tutto in direzione di Firenze. E arriviamo in Fipilico di attratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze, in carreggiata opposta, quindi verso Livorno, segnaliamo la presenza di personali su strada all'altezza di San Miniato. Prima di salutarci ricordiamo che è in corso con varie modalità di adesione uno sciopero del trasporto pubblico per tutta la giornata. Possibili disagi per chi si muove in treno, autobus, tramvia o aereo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie!